Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo la colla disse a Gesù, Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la panna nel deserto, come sta scritto, viene loro da mangiare il pane dal cielo, rispose loro Gesù. In verità, in verità, io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre Dio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero, Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro, Io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà più senso. Parola del Signore. Parola del Signore. Ecco, abbiamo sentito il racconto della morte di Stefano, il primo martire, che viene presentato dagli atti degli Apostoli con una specialissima solennità. si ricorda di lui il lungo discorso che c'è anche nella scrittura di un santo, capitoli 6 e 7 degli Atti, poi alla fine si racconta il martirio di Stefano. Avete sentito la sua preghiera prima di morire? Signore, Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito. Adesso la ripeteremo con un'intenzione speciale. Chissà se avremo la fortuna, grande fortuna, di terminare la nostra vita sulla terra così, con questa bellissima preghiera, che è la più alta preghiera cristiana della buona morte. E anche la preghiera d'ingresso nella vita eterna, è come una specie di battesimo, perché nel battesimo noi veramente ci affidiamo a Gesù per avere la salvezza. E vorremmo che al termine della vita questo affidamento diventi esplicito. Perciò diciamo tre volte la preghiera di Santo Stefano. Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito. Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito. Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito. E come possiamo fare per disporre bene il nostro cuore, la nostra vita, in modo che quel giorno, che non sappiamo come sarà, quando sarà, eccetera, possa essere un giorno così, bello, così profondo. da assomigliare a quello di Stefano e fondamentalmente a quello di Gesù, perché questa è la preghiera di Gesù, l'ultima preghiera di Gesù. Cosa possiamo fare per andare in quella direzione? Abbiamo la risposta nel Vangelo. Nutrirsi bene di Gesù e Eucaristia. Nutrirsi bene di Gesù e Eucaristia. Perché questo sentimento, che non è solo un sentimento, è proprio un atto d'amore profondo con cui affidiamo la vita a Dio, è l'atteggiamento proprio di Gesù. Gesù solo sa quanto il Padre lo ama e come ci si può fidare ciecamente di Lui, sia di giorno che di notte, quando capiamo le cose e quando non si capisce nulla nella nostra vita, quando siamo nella pace e quando siamo nella tribolazione. Gesù ha questo potere di infondere nei nostri cuori la certezza di essere immensamente amati da Dio. E su questa base può nascere questa fiducia, affidare all'Eterno Padre della nostra vita specialmente l'ultima ora noi diciamo della nostra vita ma bisognerebbe dire la prima ora d'ingresso nella vita eterna. Allora nutrirsi bene dell'Eucaristia, nutrirsi bene dell'Eucaristia perché è proprio attraverso l'Eucaristia che Gesù entra in noi e ci dà il suo spirito, ci dà la potenza di amare come ama Lui, ci rende capaci di amare. Qual è il segreto perché la Messa faccia frutto nella nostra vita? Che cosa ci vuole? Perché venendo alla Messa veramente Gesù non solo entra in noi materialmente, bensì ci porti lo Spirito Santo, la sua forza, la sua luce, la sua pace. Insomma, cosa devi fare perché la Messa risulti a tua salvezza e non a tua contanna? Dobbiamo partecipare con fede, con fede, credere a questo mistero che proclamiamo, credere che nella Messa abbiamo contatto con Gesù che ci parla e diventa nostro cibo e nostra bevanda e poi ci fa vedere intorno a noi quelli che lo cercano che sono la sua comunità e il suo corpo e ci dà la forza usciti dalla Chiesa di vivere per fare ciò che Lui ci chiede, la missione che ci ha affidato. quindi la fede e il requisito necessario è in un certo senso sufficiente in un certo senso sufficiente perché la Messa diventi nostra salvezza e perché si alimenti questa disposizione bellissima di fiducia totale nel Signore che adesso e nell'ora della nostra morte ci fa ripetere Signore nelle Tue mani affido il mio spirito diciamo una volta Signore che il mio spirito è in un certo senso così sia che il mio spirito è in un certo senso che il mio spirito è in un certo senso